Ora c'è un pallido sole, ma Grit Barford nel Bedford Shira la tempesta bella ha già lasciato i suoi segni. Qui nel centro-sud dell'Inghilterra le piogge torrenziali e le raffiche di vento, a 110 km all'ora, hanno causato l'inondazione del fiume Great Ouse e 1300 famiglie sono sfollate dalle loro case già dal giorno di Natale e le previsioni danno ancora pioggia. Una residente spiega Tutti si sono radunati ieri sera, circa alle 6, fino alle 3 di notte. Tutti ci siamo dati una mano, abbiamo scavato le trincee, portando sacchi di sabbia. Anche a Bedford, città di 100.000 abitanti, la situazione resta complicata, intere strade e quartieri sono allagati. Il presidente del Consiglio Comunale lancia un appello. Per favore, non fate gli eroi, seguite le linee guida, non fate nulla che non sia autorizzato. Il Covid esiste ancora, non è sparito. Rispettate i protocolli di sicurezza, non aggravate la situazione. A Portsgal in Galles, le mareggiate hanno assunto contorni spettacolari, ma la situazione rimane di emergenza. La tempesta bella non ha risparmiato neppure Bretagna e Normandia. In Francia, 12.000 famiglie sono rimaste senza elettricità.